e bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono frankland3 oggi siamo qui con un mio amico originalzagon per provare questo nuovo gioco che abbiamo appena scaricato dovete lasciare tantissimi tantissimi like perché ci siamo allenati e siamo diventati forti ragazzi vediamo se mi chilla questo gioco è bellissimo voglio 20 like perché sto giocando con questo mio amico che è fortissimo piccone piccone raga piccone non ti vorrei che attivo l'auto ok ok c'è mitra bar 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 vai raga piccone quando raga se parlo pieno perché c'è poco a poco questo video raga durerà tipo 5 minuti vabbè raga finché dura dura attenzione non si scherza con sto mio amico è fortissimo ok raga è molto bene popoli no ho detto raga che non si scherza che fortissimo dico veramente raga ho detto raga ok 8.8 dov'è ok raga questo bellissimo video con questo mio bellissimo amico finisci qua se è piaciuto tanti like ciao alla prossima ciao ciao